Gardini! Non è per me, è per mia moglie. Ma le sembra il momento. Scusi, ma comunque avrei inquadrato solo la faccia. Nel nuovo film di Fausto Brizzi, Modalità aereo, Paolo Urfini interpreta un imprenditore di successo che lascia nel bagno di un aeroporto il telefonino che contiene tutta la sua vita e i suoi segreti. Lillo e Dino a Brescia, additi alle pulizie, lo trovano e per 24 ore fanno una vita da Nababbi e diffondono falsi tweet dal suo account. L'imprenditore viene travolto da uno scandalo potenziato dai media. Una vicenda che ricorda in qualche modo quella che ha travolto il regista che a pochi giorni dall'archiviazione delle accuse di violenza sessuale a suo carico spiega. Il soggetto è nato prima, è un soggetto di Paolo Urfini che era precedente all'ultima annata. Poi è chiaro che invece facendolo qualche eco è entrata di sguincio in una storia che parla di tutt'altro. Alla fine i film finiscono sempre per riecheggiare qualcosa di sé. Mi è capitato con notte prima degli esami che raccontava proprio i miei esami di maturità. Alla fine è venuto fuori un film disneyano, comico, sull'amicizia e quest'anno era importante per me fare un film sull'amicizia. In modalità aereo l'amicizia infatti salverà il protagonista. Nel film prodotto da Luca Barbareschi, nel cinema dal 21 febbraio, Violante Placido interpreta una hostess e Caterina Guzzanti la moglie di Lillo. A proposito dei danni che possono causare telefonini e social network, regista e interpreti dicono. Però in qualche modo il mio inconscio si salvaguarda e me lo fa perdere continuamente. Quindi è l'unico modo per restare un po' libera e leggera e anche un po' più in contatto con me. Lasciando un attimo il telefonino ci si può accorgere della vita, no? Che è fatta di dinamiche e di tecnologie pazzesche che nessun social può farti riscoprire. Tra cui il sociale. Il rapporto sociale e non social con degli amici che trovi, non mettendo un like, ma li trovi nella vita vera, no? L'attività sui social è un'attività dove non sai come muoverti, perché sei costretto ad autocensurarti continuamente. Pensi una cosa, magari una cosa un po' ironica, un po' sarcastica, e la scrivi proprio e pensi, oddio, però così non è chiaro. Ci metto una faccina, perché sennò altrimenti... Perché vuoi essere chiarissimo, perché sennò altrimenti ti uccidono. In qualche modo i social sembrano avere una loro verità, una loro vita, ma così non è. Io spero che questo film veramente aiuti le persone a capire che spesso la vita va messa in modalità aereo. Continuano le esternazioni di Diego Gardini, l'ultimo gravissimo tweet contro sua santità... Ma che è combinato? Così è troppo. No, ma è sua santità, no. Io l'ultimo ho scritto è contro il VAR.